Il tutto si sarebbe svolto di notte quando nessuno poteva notare nulla. Nella cava abusiva sarebbe stato estratto materiale e quanto svuotato poi riempito con i rifiuti. La mattina dopo tutto così appariva come sempre nessun segno dell'operazione illecita. Terre, rocce e detriti scavati venivano infatti inseriti nel ciclo produttivo dell'impianto di produzione di inerti che si trova alle porte di Arezzo. A scoprire l'accaduto sono stati i carabinieri forestali grazie all'utilizzo di droni che hanno a lungo sorvolato la zona ricostruendo ogni momento dell'attività. Dopo un paio di settimane oggi sono scattati gli arresti che hanno colto sul fatto due dipendenti della ditta. Il legale rappresentante dovrà rispondere dei reati di gestione illecita di rifiuti speciali, smaltimento illecito, cambio di destinazione d'uso del suolo e di inquinamento ambientale. Secondo quanto appurato dagli investigatori, supportati anche dalla perizia di un geologo, i scavi di terre e sedimenti riguardavano infatti una falda freatica che veniva poi riempita di rifiuti, un'azione che avrebbe così potuto danneggiare il terreno, la parte sottostante e la falda acquifera. Al termine dell'operazione, denominata inerti a chilometri zero, i militari hanno anche sequestrato l'intera aria che si estende per più di 40 ettari. Grazie. Grazie.